ok start 3 2 bella Gergetium start timer vai new game vamos si gode verde bella gioia ho visto che mi hai scritto grazie bro allora eccoci subito una bella merda atomica bro subito una bella merda atomica dio canaia giusto per cominciare ma sarò contro uno spettro ah no ok attenzione però attenzione bro eh attenzione ne entran due è un matto 3 su 3 è un matto bro è un matto bro 3 su 3 mattanza 3 su 3 un cecchino cazzo un cecchino eh lo so Giorgezio ma lascia stare un mattone co giuda merda questa dovrebbe pullarle voran pazza eh cofagrius tutti si devono qualificare design oh fa ah punta schermativo torneo fate ci sono le varie info se vi interessano così evitiamo di aver posso prendere tiranita rary per una volta ok ho visto tutti e 5 vai 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 crederci cazzo crederci cazzo crederci cazzo bro vai 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 crederci crederci vai per aquenzo bro per aquenzo no crederci ragazzi non mi rompete il cazzo eh oggi bisogna performare non mi rompete il cazzo vero tanto crepo da questo porco giuda eccoci morto da questo porco giuda però dai ma sei vergognoso rimpe porco dios è imbarassing sta roba però eh morto è imbarassing rimperios mamma mia ecco lei mi staccava ogni pokemon eh ragazzi c'è da dire probabilmente hai si col crash tabato geodude su noctowl la vedo dura bro la vedo dura godo merda lascia stare prima trollata vai devo fare fiery dance matta vero o è meglio psichico no psichico mi sa che questo mi posso curare ma lui è loccato su uproar quindi mi sa che va dal baretto frate ti dico sta veridad eh sì 10 punti in 33 come la vedi eh può essere che succeda può essere che succeda mai dire mai potrebbe anche essere che succeda mister mime su quello magari abbiamo la lotta si c'è la lotta è 4 per la lotta no vediamo deve entrare dynamic bravo madonna dynamic punch unica soddisfazione per ora per ora dynamic punch unica soddisfazione cazzo molto grave sta cosa lo prendo lo devo prendere per forza bro perché c'ha 9 di speed quindi vabbè ok zio cane bolt bro bolt ma se faccio un trainer con mirror coat mi date 50 punti extra per favore o no a quenzo mi devi salvare non è vero è proprio lui non posso perdere il tempo a dare i nomi di pokemon non mi sembra veramente una play sontuosa se posso zenedbat dai a quenzo minchia ma sveglia te che merda che fai dio cane non mi dire che c'ho il dubbio disco staran vero c'ho il dubbio disco matto no magmarizer c'ho ma rimma maiale nestball lo potrei trastare questo però è susj è susj con calma tanto cosa fa pure pickpocket fotte l'item al trainer tipo bella omar cerco almeno il quarto qui lumineon puzza un po' potrei andare a vedere sotto solo che rischi il più veloci di me anche io qua non è che sono velocissimo clang non è cling clang purtroppo ipom non è ambipom gigalit è gigalit però bah non lo so potrei provare il gigalit matto all'otto sto a quenza non è che sia proprio più che altro questo qua si becca il buio considerando la mia luck ma se trovo uno shiny mi danno dei punti vero spero però vedi che qua rischio di morire trust di aquenzo adesso una mossa in più si opera perché ho curato bah o provo il gigalit matto no secondo me devo provare il gigalit matto ragazzi c'è c'è solo zen head di sotto ho catturato porygon no non posso riprenderli for warm speriamo il order è una merda 39 hp almeno ha un paio di mosse questo cosa che la quenza non aveva chiaro è lo trusti bro anche perché nell'altra erba non c'è niente abbiamo già catturato in tre erbe nell'altra non c'è nulla trasta questo almeno fa il bosco si prima po' prima po' che ho idrocannone di ok per i kill l'altra si spinge è savage classico bro come doveva andare se non così devo provare a hittare qua non ha senso fare altro rips che lacca bro disumano oserei dire classico i primi try della fila ogni volta così genesect mi serve la fuoco questa non sarebbe male di questa non sarebbe male di di coverage però la vedo dura attenzione oh oh shedskino p cazzo shedskino p qua eh shedskino p while charge mi fare coil però no farei scald bravo wing attack meglio di scul bash sicuro questo è mezzo trastabile anche perché giga livella va tipo al 9 ha pochi attacchi però minchia c'ha le mosse che fanno coverage questo devi considerare secondo me questo è trastabile a livello di oh firestone secondo me un'occhiata la diamo qua un'occhiata la diamo qua minchia era più veloce di me quel tipo col maestro mon qua non è male da trastare però c'ha la speed c'ha tutto c'ha shedskino magari poi becco il pokemon devolver con la pietra fuocaia e la provi la evorana che sei un figlio di puttana bella vise cuore black valenciaga oh lo punni si oh si bebe oh si bebe oh lo punni al massimo la mettiamo la prendiamo per i codini che c'ha per quelle due orecchione avesse ritorno stabata ridiamo per non piangere che in questo periodo qua c'è più da piangere che altro scudiamo tu lascio stare che sei un figlio di puttana catcalling lo punni capiamo sono erfaina vedi erfaina cosplaying playing kaizo a stupenda ma questo è tra stabile secondo me sto hitmon non è un sceno è un pokemon che te lo fa qualcosa però scout c'ha 2 ore 48 dio bebiato fammi fammi cucinare secondo me possiamo trastare comunque cioè secondo me lo punni non vale lo switch da questo che già al 9 ha shed skin oltretutto che è buono i nirli zabdus al primo try subito bebiato dai maranza che mi rompono il cazzo dio canaia e vabbè trastiamo ma infatti io lo trasto perché c'ha le mosse non peraltro perché secondo me le mosse sono più importanti oh vattene affanculo pigliatelo focus blast dai brother madonna santa bravo 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 però svilane è sopravvalutata sì però è figa quindi fa successo così funziona buongiorno se gli entra a zap cannon mi innervosisco assai cazzo bite buono meglio di wild charge che fare coil sicuramente molto bene bravo it's monchan prendigli a pugni sti figli di puttana fatti sentire caro va buon slissi becca scaldata scaldalo si rescaldalo scaldalo si rescaldalo madonna punto scaldativo torneo trovate il documento con i vari punteggi bravo scaldalo buono trainer pre bosco fatti io ragazzi ho vari tipi di musica nelle mie playlist però quando ci sono cose così devi chiamare lo ziotoni in supporto a cacciarti la trappata matta e via che devi fare l'energia rotta è buona per provare il bosco oh ma porco dio sto pad ragazzi mi dovete dare 10 minuti in più non funziona il tasto in su a modo mi potete dare 10 minuti in più non funziona il tasto in su a modo per favore cioè no sto scherzando dovrei cambiare sto pad solo che non c'ho voglia di spenderla alla fresca per prendere un pad nuovo cazzi tuoi ma come rimpe una volta ne più sentire da quando fai anteventi su balatro ti sei montato la testa veramente sempre a piangere vai vai leaf blade una bella mossa lotta covet rosbret è buona non so meglio di meglio di byte no per coverage penso si non posso stare qua a fare i calcoli a occhio mi sembra meglio di byte dai merda che cacchio che robberi totale porco giuda c'ho shed skin però mi devo curare su un selvatico vero qua ho capito che ho shed skin ma secondo me mi devo secondo me mi devo max pozzo solo che devi finire il rappel prima solo che secondo me è ward qua no dai però ok perché se non me lo cura metti che non me lo curi per due turni bro è una merda cioè ci crepo poi se non me lo cura per un paio di turni ci crepo quindi tanto vale secondo me curarmi qua è buono durante il fight ma se poi durante il fight per sbaglio misso quelle percentuali è una brobre sta roba quindi secondo me è giusto è giusto curarmi qui che cazzo fanno ste robe oh porco dio 33% se non è a shed skin frost breath bravo bella Henry grazie del prime bro gentilissimo a rough skin lui quindi dobbiamo andare di scald molto bene ne antidote vaffanculo cazzo eccoci morti provare a burnare shed skin vabbè insomma secondo me ho max pozzo ora secondo me devo max pozzare adesso bro io ecco devo max pozzare adesso secondo me non max pozzare ma energy rottare perché se lui mi crit ha rischio potrei provare una fisica matta magari lui c'è meno difesa magari no ok c'è lui switch a mosse magari me ne fa una fisica non lo sai cos'ha lui lì la micle cosa fa cura sino a pinch spero di non morire per un frost breath missato ecco it voice fa male ma andagiamo scaldalo porco dio che sfiga ma pure crittato bro max pozza provo un wing attack matto secondo me scaldalo scaldalo secondo me devo fare full heal qua ho fatto scald devo provare leaf blade magari lui c'è meno difesa nice bosco pullato dai buono buono bosco smeraldo più 20 nice massimizzato qui è un bidone sta roba buono occa è quella che dà la vita no provatemi fatemi le bet se volete per broc però in realtà tiro dritto c'è mi cure lo faccio qua quindi non so se volete fare le bet le cure hanno eh sì le cure si hanno un bidone sta roba magari ora fa petra per qualche energy root attenzione ci fa sognare energy root allora occa no ice cura si no lower special defense gli do la cura si quella che ho io la la custop che cazzo fa pure è come una delle altre quindi hit munchen scald aria lace vabbè scald again scaldalo vinewhip è una merda via leaf blade è molto meglio sidra si becca la leaf blade ante madonna non gli leva un cazzo porco giuda leaf blade again buono se almeno vi degnate di leggere abbiate rispetto ragazzi ho un x qualcosa io x special attack lui è terra pure no è steel rock steel che specie ha senso curarmi ora no vero porco dio bro aia vabbè aveva già fatto il suo questo ragazzi ha fatto il bosco trainer pre bosco latias non lo tira mai giù lì il suo l'aveva fatto sto sto sontuoso saucebook aggron e sludge bomb non è male sto mon altrettutto madonna se questo esce non è terribile però che non uscirà vero ok buono 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 bello sto autoflab con sto roba solo che è under level laboratorio lo fa però è under level è forte però se passa il primo trainer questo non è male secondo me sarebbe quasi da trastare senza scautare questo se passa per sbaglio il primo trainer è un buon pokemon sto tipo secondo me questo qua è trast ragazzi va da provare poi magari crepa il primo però overall porco giuda ma che danno mi fa ok questa è sicuramente buona allora silver win mi dà l'omnibus questo può far flinchare però lui è più veloce no forse steel sludge nice buono taunt meglio di acid forse non è uguale bella tool puri olsen siamo under leveled ma vediamo devo switchare la playlist ragazzi è arrivato il momento di pullare basta basta dai bro madonna che tumore latias mi sta intando ogni run frate sta roba mamma mia latias che cazzo mi sta distruggendo frate cazzo 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 mi fa livellare bravo bravo bro sludge bombalo cosa ti ho visto fare bro non ci provare mi hai fatto prendere paura boi eterni run around me you always placed feel to thank you all night buono trainer pre bosco fatti si gode upside down and boy you turn oh porco dios però boy you turn me inside and run run non c'ho cure fra cioè 8000 a cure di status però questa è buona magmarizer fine meglio la terra è buona su questo no non penso di insegnare perché è fisica classico forse drill run era meglio di wake up slap forse era meglio fare madonna questa ok non 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 Grazie. Per me sono simili i danni Non è detto che sia meglio fare Wake up slap Automatize no Il nostalgico Si andrà Brock di nuovo capi Trainer pre-Bosco fatto 100 No aspetta Eh ho sbagliato Devo premere due volte il pre-Bosco Perché il Bosco Smeralda Sarà più 20 ok Ho premuto il pre-Bosco Quindi l'ho premuto due volte Perché erano 20 punti ok Brock ha fatto Si sono messi avanti Però per come sarebbe stato il giorno Un giorno il mondo Ma porco Dios però Vaffanculo Ho un rage candy bar Che non è rare candy Devo tirarla Max Pozzo Sul primo di Brock Sperando sia un bidone Di Petra Dai cazzo Madonna che sfiga Non entra l'omnibust bro Barassing Dai bro Madonna che sfiga Porco Dio però Mamma mia Che robbery Sono morto probabilmente Da questo bro Apple paralyze Old Gatone Devo tirare Crite Vergognoso cazzo Taurus Dark Pulse Flinch Morto Se ti ha mandato ora L'alce ti chilla In che senso Wabufet l'avevo beccato come primo Vuol dire che probabilmente Non aveva mosse lì Non impara mosse E me l'aveva mandato come prima Non aveva nulla bro Super power Dura qua eh Sperare che lui cambi mossa ma Che figlio di puttana Che figlio di puttana non fa Riesco a uscire dal lab Riesco a uscire dal lab Samau Fattibile Se ne ha il crit Serviva Eh no Ma curò Però Wabufet Non impara mosse Il primo Non mi aveva fatto danno Quindi vuol dire Che secondo me lì Era più probabile Non le avesse Rispetto a che le avesse La vedo dura a fare autoflab qui Shadow ball Boh Vedi E invece E invece Acid spray è bello Oltretutto Forte Traster questo Follia vero Però ci fa livellare bene Il match Un po' Minchia va già al 9 addirittura E che ha troppo poco specialata Però c'ha Acid spray Una scautata La dà questo Secondo me Tanto 52 HP Frate Porco Giuda Questo tira degli stecconi Frate Che non ha senso Sonic Boom Water Boh Vabbè Lo trusto Non è che sia granché Sta roba Però lo trusto Cioè comunque 36 Cioè se ti impara Una speciale Ha Water Pulse Oltretutto Non è Water Pledge Non è male Ha comunque Ha tanti HP Ha tanti HP Cioè Sta roba Questo è un glass cannone Bro Carbos Usalo Vai Vai Zabdos Conducimi Bro Conducimi Bro Fammi sognare Sì vabbè Che cazzo c'entra Due Zabdos in 7 tries Entrambi fan cagare È come Cioè preferivo Non trovare Zabdos Ma trovare roba Trastabile Cioè che discorsi fai Castoro Due Zabdos in 7 try Fan sbocco Preferivo trovare roba Quando ti impara Thunderbolt al 15 Magari Dopo Potrei anche parlare A parte che questo È veramente un bidone Cioè Non è da dire Che non sia granché Questo è un cesso Allucinante Buono Più veloci di me Button pass Non è la mossa Prebosco Fatti Button pass Ti direi Di Sai Questo Grandissimo Pokemon Ah Harvest Però Harvest Vuol dire Che gli posso dare Da tenere le bacche No Che non so Che chiaramente Non ho Cioè Ci mancherebbe Altro Voglio dire Bella Zeus Grazie Edo Della Della resa beta Due mesi Grazie bro Vistora Gentilissimo Grazie anche Harry I'll miss you Baby Don't you cry Every thing Vai Affanculo Spawn Faccio Faccio che ti Faccio che se mi esce Lo water absorb Contro che mi stecca Ti esplode il pc Mentre giochi a bala Tra oggi Quindi non so Quanto ti convenga Che ciò succeda Io ti avverto Poi Dai Madonna La sand è una rottura Di cazzo Però 17 Why Nel baby Bravo Bravo Livella 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 Proteine Non mi servono I wanna I wanna I wanna I wanna Ai 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 Water pulse Madonna Double slap Bella brother Grazie mille Della Della resa Biolsen Allora Ho due pozze Da 20 Non su manaf Dai però Dio bebiato Mi dai solo godmon Contro Questo Ragazzi Quello lì È il pokemon Preferito di renga Che lo trovo Al rivale della rega Al rivale della rega Per favore Non me lo date contro Qua c'è Non mi sembra il caso Madonna santa Questo Il punto è che Vabbè Adesso lo trasto Vaffanculo Ho perso vita Solo che non posso Stare lì C'è anche gli altri Erano dei manafi E delle robe così C'è Magari tiro la Max Pozza Dopo sto trainer Prima dell'ultimo Se Se questo mi dà Dei problemi Perché Per comunque Per stare safe Secondo me Può essere una play Che ci sta E tirare La cura qua Non è follia Secondo me Considerando che Comunque ha le difese basse Quindi secondo me Una bella cura qua Adesso la tiro Su questa zoccola Se mi fa Se mi fa Fa troppo danno Veramente mi nervosisco Bravo Brava Molto bene Cocca Fatti i cazzi tuoi Io mi faccio i cazzi miei E siamo a posto Porco Dio Molto bene Molto bene Trainer preposco Fatti Più 20 Comac McBerry Presa Serve un'altra mossa La impariamo fra un livello Cura Grazie Rista Dei 5 Col tier 1 Il ristiante Water Absorb Non c'è via Silenzio No haters in the chat No balls Sucker in the chat Let's please La Lansat È buona Questo è buono Dello special Dopo Tutto bene Su 2 Crash Grip Fisica Mannaggia Dio Un salto giù due giù tre quattro postini madonna questo water pool still penso buona la confusion molto bene molto bene che palle sto robo bro oh bravo buona la confusion era quello che mi ci voleva petra fatta vai zabdos vai zabdos petra pullata capo let's go let's go petra pullata capo con solo water pool si gode dai dai bro ma siete vergognosi però eh madonna non mi date una mossa neanche a piangere perché sono scomodo con questo ti arrivo alla lega cazzo sono veramente scomodo con questo bro non mi date quanto è più bello giocare per degli obiettivi che vuoi trastare anche pokemon march mamma mia vecchio dai lascia stare sono troppo casato per le ranked quanto è più bello bro quanto ha più senso il gioco quanto ti voglia di più a tryhardare a giocare serio focussato cioè è un altro andare bro sta roba posso dirlo letteralmente cioè con le ranked sarebbe tutti i giorni così posto che resettare perché non trovi un god a caso è troppo più divertente se posso dire sta roba cioè pazzesco quanto sia più divertente proprio quali sono i prossimi punti la prossima il prossimo boschetto vero c'è il prossimo dungeon intendo no il prossimo dungeon giusto focussato capo grazie che sta supportando ai follow nuovi alle sub eccetera adesso però focussati oggi nuova season di battlegrounds chiudiamo in top 100 14.000 passa quella appena conclusa si gode focussato capo si pui si top 100 non è top 1 ma brother ma almeno sai di cosa parlo ti piace mangiare la cacca non ho mai più la seconda c'è un cui che non riusciresti manco a vabbè sto mister zitto dio bono cazzo questo quanto mi ha fatto di special ragazzi quanto mi ha fatto di special prima sa che qua crepo vero quanto mi ha fatto di special prima circa no sonic secondo me è più forte fare non so quanto mi ha fatto di special 30 tipo bravo molto bene bravo fatti i cazzi tu ma se uno può se uno deve andare a pisciare si può stoppare un attimo il timer ragazzi si può stoppare un secondo il timer cioè se riclicco il pulsante si stoppa se devo pisciare o no perché sta roba 36 in totale le difese vabbè questo perché mi sei ricurato ieri delmo l'ha fatto ma tra un try e l'altro vabbè ok vabbè va bene quello cioè nel senso finisco sto try e voglio pisciare stopp un secondo pisci e riprendo e stoppo il timer ok intendo quello mica per forza ora ma la rivale è da punti qua timeoutate già anche per favore ieri delmo l'ha fatto dopo che devi aggiornare la pagina e si blocca il timer in che senso la pagina? fare aggiorna cash su suo bs bro e si blocca il timer faccio aggiornare la cash della pagina fatemelo sapere per favore ora tiro dritto però mi serve la mossa il 29 bro a me qua metti il catetere vabbè siete malati voi spero non mi faccio andrà col tail dragon tail perché c'ho il lo slain qua sarebbe bello pulare il full clear però è tosta basta basta ma ogni run così bro porco dio madonna ma avete rotto il cazzo mamma mia ma ogni run sto cazzo di veleno ma è disgustosa sta roba è imbarassing aveva pochi hp questo coglione vero sonic boom mirror code attacca sempre dopo vero è è è è è è è è è dai ragazzi sto scherzando si può neanche più scherzare minchia veramente sai che in realtà ha più senso ora farmi sta trainer questi qua c'hanno i pokemon a livello basso oh mamma figlio di puttana magmortar lo stick dopo mi curo dai però non ha un cazzo di pokemon a 17 bro al 14 bro l'illiganto al 14 dai brava vieni è un trainer già questo no? madonna santa bravo no your name ok li ho fatti tutti qua i trainer l'ho fatto quello dell'item là in alto l'ho preso l'item là in alto questo non l'ho fatto ancora dai madonna fai bravo Chris non l'ho fatto vero questo qua in alto si che cazzo non mi ricordo fra sono caduto in trappola nel buco oh ma dai ragazzi però devo mettere a rilento perché altrimenti col pad mi si bebia sono due trainer mi steccano questi sono quelli con i pokemon vaffanculo coglioniti madonna questo cos'è che ha fatto? bimbi stupidi sono due pokemon al 24 vero ora? fammi vedere un attimo le berry che c'ho cherry berry la pataia la pataia quanti punti darebbe sta roba ragazzi? me lo potete scrivere in chat che non c'ho voglia di vedere quanti punti darebbe far sta robaccia? 20 oh cutieman impossibile fare il servole vuole forse il time out cutieman che gli rimuoviamo anche il vip ci può stare no bro merda che palle questo solo che dragon tail è second priority sono morto vero? sa che sono morto da lui perché dragon tail è second priority eh sì è second priority dragon tail no? sì attacca prima lui attacca per dopo dragon tail quindi devo provare devo provare mi erarcotti io prima però non sapevo se lui avrebbe fatto flamethrower o meno l'avevamo beccato al 12 che ce l'aveva fatto però al 12 pur ok crash grip non gli toglie nulla qua crash grip non gli toglie nulla perché fa danni in mano devo provare water pose confusion no mamma mia che cuore pazzesco che cuore merda bravo bro pazzesco che cuore merda pazzesco questo puttana che cuore che ci ho messo qui no vabbè veramente ragazzi questo è un cuore senza senso che ci ho messo qui eh qui veramente giocata sontuosa ha pagato gli hack gli hack hanno tutti quindi cioè nel senso non pensate che gli altri non succedano cose simili cioè non siate patetici per favore buono vai diretto la pale si tira dritto eh qua si spera di pullare sta pale il massimo che può fare sto mone è fare sta pale più di questo non può fare quindi speriamo in qualche modo di pullare questo sarà quasi impossibile penso ma è il massimo che può fare lo slave rip vabbè spero di non prendermi la roba bro cioè amen andiamo giocando in fretta qua eeeh boh non so neanche se era a fare questo defendor ma resiste no vabbè ma veramente bro aveva più di uno di vita penso fosse uno frate penso fosse uno di vita eeeh rinchi assurdo cos'è che aveva lui mmm 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 che palle è sto tipo porco Giude noi spiga spiga cazzo special attack aumentato o provo le cure da 20 ragazzi intanto secondo me o provo vado di crash grip qua acrobatics eeeh devo provare waterpulse ma è duro sperare che umbron sia buono con me a tirarmi pozze sweet earth boh non so se ha senso posso provare però perché mi curo di troppo poco di tre tipo ha fatto quel che doveva fare però già tanto che abbia fatto petra purtroppo infattibile ciao ciao ciao